Ciao logaritmi, oggi è il mio penultimo giorno in Irlanda e sto aspettando il bus per andare da Doolin a Galway, poi da Galway andrò a Dublino, visiterò Dublino e poi da Dublino prenderò l'aereo per tornare a casa. Sono arrivato a Dublino, ho lasciato le valigie in hotel e adesso vado a vedere un orto botanico. Raga, io speravo di filmare qualcosa di bello, di figo, però questa città è proprio brutta. Cioè, di solito quando uno passeggia nel centro di una capitale europea, tutto è bello, cioè ci sono proprio un sacco di edifici belli, uno semplicemente filmando, guardandosi intorno, capisce di essere nel centro di una capitale europea ed è bello. Qui, cioè, boh, non c'è niente, veramente. Il giardino botanico sembrava carino, però le serre erano chiuse, tu dici vabbè, ok, e qui, tipo, gli edifici più importanti, più belli, non sono niente di che, c'è tipo il castello di Dublino, poi c'è questa chiesa, la chiesa di Cristo, qualcosa del genere, che è carina, però passeggiando tipo nel quartiere del Temple Bar, boh, non vedo niente di meraviglioso. Bene ragazzi, sono tornato in hotel, il mio viaggio in Irlanda può dirsi finito, non penso che filmerò il ritorno perché sarà solo prendere l'aereo, il treno, eccetera, e poi penso che farò un video di impressioni finali, diciamo, raccogliendo tutte le esperienze di questo mese. Quindi niente, io vi ringrazio per aver guardato questi vlog e vi saluto.